Ciao ragazze, siamo tornati con un nuovo video e come potete vedere sono in dolce compagnia perché il signorino ovviamente vuole stare attaccato, appiccicato alla sua mamma e quindi l'ho portato qui nel lettone con me, tanto so che assolutamente non vi dispiace vederlo e quindi abbiamo anche il nostro piccolo marmocchio qui che sta giocando con la crema della mamma dimmi amore, cosa vuoi dirmi? Allora ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video haul Tezenis per lo più nello specifico sarà un video haul di leggings di Tezenis perché ultimamente sono in fissa con Tezenis come vi avevo detto nell'altro video, sto rinnovando un attimino l'armadio e quindi siccome ho tantissime cose da farvi vedere ho deciso di dividere il mio video fare il video sui leggings che è appunto questo e successivamente più avanti tra una settimana insomma anche in settimana se riesco vedrete il video haul con il resto dei vestiti, maglie, canotte e quant'altro allora, bando alle ciance e parto con il farvi vedere i leggings il primo leggings che vi faccio vedere è questo qui ed è, anche se in videocamera sembra nero, è un bel blu scuro invita a queste fasce elastiche che vi permettono di non far fuori uscire i rotolini e hanno poi questa, aspettate che questo, eh sì hanno poi questa cucitura ma che è? ah eccola, non trovavo più la cucitura hanno poi questa cucitura qui sul davanti comunque poi qui a fianco vi metterò la foto che prendo appunto dal sito di Tezenis se le trovo per farvi vedere il prodotto per intero il leggings per intero il prodotto il leggings per intero questo semplice, molto semplice poi, questo è un po' più eccentrico ho voluto questo leggings leopardato nei colori di toni appunto militari perché è verdone, nero e marroncino e poi nella parte esterna della gamba, sul lato insomma c'è questo inserto in similpelle che vi faccio vedere ecco qua, è fatto così ha seminato tutte le mie forcine in giro per la camera allora, spero di averlo sistemato un attimino, 5 minuti proprio perché no, niente Alessandro, guarda qua il trenino dai, vieni a giocare col trenino no, dai dai seduto qua dai, vieni qua dai, dopo andiamo a mangiare ok, vi dicevo ho questi appunto leggings stile pantalone delle tuta per intenderci perché poi sulla sulla caviglia ha questa fascia elastica sul grigio e sono veramente di una comodità unica perché restano morbidi non stringono bellissimi fantastici allora, il costo di tutti i leggings che vedrete è di 19,90 euro mi sembra se non mi ricordo male e questi appunto favolosi troverete sempre qui la fotografia per intero ok, forse ce la facciamo a finire questo video perché adesso ha chiamato Manuel e Alessandro ha provato a parlare ma non gli ha detto papà ha detto mamma boh ha chiamato tutti tranne il suo papà poverino e adesso sta niente qui sì amore ok, posso finire facciamo presto sto giro loro non ci credono ma facciamo presto se fai bravo sì bravo allora ragazzi il prossimo leggings è questo qui con tutte tutte queste micro lignine bellissimo mi piace un sacco è nero e grigio infatti l'ho abbinato poi con una canotta grigia e una maglia nera e mi esce un outfit stupendo anche se in realtà io cercavo quello con i piede pull piccolo 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 però non c'era più la taglia ovviamente quando sono andata io e niente semplicissimo leggings che però sì vi crea vi crea l'outfit comodissimo come tutti i leggings in vita ha la fascia elastica e vi metto sempre la foto e adesso passo con chi stai parlando amore sono qua io eh chiama papà se vuoi mamma va bene adesso vi faccio vedere il mio leggings preferito dimmi amore che se c'è pronto chi c'è chi è e chi è vuoi sentire papà eh vuoi sentire papà vuoi chiamarlo adesso finisco qua ne abbiamo solo due da far vedere amore ok allora ragazzi vi dicevo adesso vi faccio vedere il mio leggings preferito in assoluto voi così dite ma è un leggings nero cosa invece no e invece no sì esatto ve lo avvicino così riuscite a vedere allora da lontano non si vedono eh sì sembra un semplice leggings nero in realtà ha tutto questo stile scozzese tartan tono su tono ed è veramente bellissimo mi piace un sacco è bello pesantino è bello pesantino elasticizzato ovviamente e mi piace un sacchissimo mi piace un sacco io di solito lo abbino con un un maglioncino color sangria borgogna sangria adesso va con sangria in realtà è un borgogna ed è veramente bellissimo questo invece mi sembra sia costato torno i 14 che è il più bello in realtà e niente questo è appunto il leggings mi metterò sempre la foto amore mi stai sbudacchiando tutta vuoi chiamare papà eh chiamiamo papà eh pronto pronto chi è chi è mamà mamà papà mamà ok così avete visto anche la canotta che indosso sotto molto bene ultimo leggings che vi voglio far vedere mi lasci allora l'ultimo leggings che vi faccio vedere è questo ed è appunto una sorta di nero chiaro marrone non riesco ancora a capirlo bene con tutti questi fiorellini stilizzati come vedete da vicino non sono dei fiori ben ben disegnati ma sono stilizzati è semplicissimo con la fascia elastica sempre in vita e in fondo ha la particolarità di avere questo risvolto cucito che voi potete ovviamente andare a fare più alto oppure lo lasciate così questo lo indossavo appunto sull'ultimo video che ho fatto sui preferiti e lo abbino solitamente appunto a un maglioncino beige con la sua canottierina beige e lo stivaletto beige insomma per riprendere il tutto ed ecco qua bene ragazzi questi erano tutti i leggings che ho appunto acquistato nell'ultimo periodo da Tezenis mi ci trovo benissimo adoro Tezenis hanno i prezzi secondo me li hanno un attimino gonfiati ultimamente però sono capi di buona qualità insomma e poi io ultimamente quando utilizzo i leggings non ho più messo un paio di jeans perché sono di una comunità assurda infatti anche oggi indosso come vedete dei leggings questi qui con i fiorellini sono di di ce ne me li ho acquistati l'anno scorso niente spero che il video vi sia piaciuto andate a fare un giro da Tezenis se non ci siete già andate fatemi sapere magari quale vi è piaciuto di più adesso io e il marmocchio andiamo giù a fare la pappa e richiamiamo papà visto che vuoi sentire papà ti prego di non buttare nuovamente per terra il telefono fate vedere come sei capriccioso sei un bambino capriccioso sei diventato un bambino capriccioso sei diventato un bambino capriccioso dispettoso e capriccioso sei diventato si 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 niente ragazzi noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao